In sua omiglia in casa Santa Marta, il Papa Francisco enfatizò che il demonio existe e che il cristiano deve luchar costantemente contro lui e altre tentazioni. Questa generazione, ma tante altre, ci hanno fatto credere che il diavolo era un mito, una figura, una idea, l'idea del male. Ma il diavolo existe e noi dobbiamo lutar conto di lui. Il Papa explicò che ci sono treni di la vita cristiana, il demonio, il mondo e la carne, anche assicurò che Dio si attua come una armatura e accompagna a gli cristiani in sua lucha. E poi Paolo dice, come questa armatura di Dio? Quali sono le diverse armature che fanno questa grande armatura di Dio? E lui dice, state saldi dunque, state saldi, attorno ai fianchi la verità. Questa è un'armatura di Dio, la verità. Agregò che il demonio è il padre della mentira e che, a pesar di avere il supporto di Dio, cada cristiano deve defendere la sua fe.